Anisci ben ritrovati! Nuova avventura con Sergio e Paquano. Sergio che cosa abbiamo oggi? Le altre auto di Fast & Furious, le altre due auto stanno giù perché già l'abbiamo fatto il video. Ragazzi se non l'avete visto andatela a vedere. Esatto allora ragazzi ovviamente stiamo collezionando le macchinine di Fast & Furious ce ne sono tantissime sono tantissime le stiamo collezionando noi di intanto vi facciamo qualche video. Ragazzi voglio fare vedere una cosa. Lo sapete oggi che ho avuto mi sono comprato questa macchina qua e mi hanno fatto trovare le pantofole dei Minions. Abbiamo anche le pantofole dei Minions nuove un altro regalo allora andiamo ad analizzare nel frattempo che Sergio si sistema no? Si sta sistemando... che stai facendo? Stai sistemando le pantofoline? andiamo un attimino ad esplorare... ciao Sergio se n'è andato vabbè andiamo ad esplorare un attimino le macchinine di Fast & Furious e le andiamo a scoprire insieme. Allora ovviamente questa qua l'avrete sicuramente riconosciuta è una Jeep guardate guardate è bellissima che Jeep è come si chiama è il Jeep no gladiator questo è il gladiator guardate c'è anche la ruota di scorta sopra qua si apre anche si aprono ovviamente anche gli sportelli è un bellissimo grigio metallizzato bellissima molto aggressiva per procedere con le avventure chiudi gli sportelli chiudi gli sportelli chiudi gli sportelli dove stai andando senza sportelli ok Jeep gladiator poi abbiamo quest'altra macchinina la macchinina arancione con un numero 0 2 2 3 0 2 2 3 anche questa si aprono gli sportelli è tutta quanta rinforzata all'interno doppio tubo di scarico cerchi lega questi che cerchi lega sono vediamo questa che cos'è una nissan sicuramente no sbagliato questa è una mazza da rx 7 mazza da rx 7 guardate e anche questa la posizioniamo da quest'altra parte sergi invece sta giocando con la vogliamo la vuoi dare un attimo dalla d'attima a papà questa qua è l'ultima arrivata alla nostra collezione amici guardate è bellissima questa sicuramente questa è una doge è una doge changer 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 una doge comunque doge del 1968 1968 doge del 1968 anche qui abbiamo l'apertura degli sportelli guardate il motore ovviamente rinforzato cerchi lega cerchi lega madonna che salta andiamoci a fare un gira anche su questa doge aspetta aspetta bellissima questa doge e infine papà che cosa abbiamo mi fai vedere lì questa qua chi è una mclaren si amici una mclaren sicuramente vediamo comunque vediamo si mclaren te lo confermo è una mclaren guardatela mclaren wow bellissima anche questa con l'apertura questa la guidatore papà si si la doge la guidatore guardate che apertura che apertura strana le portiere di questa di questa mclaren ma mi ha dato un fico secco sembra proprio l'apertura di un pipistrello guardate ah qua il volante sta a destra ma guarda che ho formato motore non ci vede ho formato una t una t giusto è una t bravissimo allora amici andiamo a fare un altro giro anche sulla mclaren ma questa è la i papà la i la i la i sta facendo Sergio sta facendo le letterine con le macchinine è bravissimo Sergio sei in grado vuoi fare una n no 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 grandissima testa coda guardate qua guardate che ha fatto ha fatto la n guardatela la n grande Sergio no no guarda che testa coda che fanno queste macchine sono fortissime c'è una teoria che ho fatto non lo so che lettera è questa scusa è la è la non questa qua è la non in corsivo piccolo giusto 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 allora Sergio facciamo una panoramica parcheggiamole qua bellissime eccole qua queste qua sono tutte qua questa è rottina queste qua vabbè non fa niente lasciala qua facciamo un attimo una foto guarda qua amici questa qua sono tutte qua delle macchine bellissime di Fast & Furious sono le ultime arrivate che si uniscono alle altre due giusto alle altre due che abbiamo dobbiamo fare una collezione grandissima e poi faremo sono 18 no mi sembra di più papà fermate fermate secondo me sono di più papà diciamo sono di più no sono di più sono oltre 20 queste macchine sono oltre 20 ah sì sì le devo collezionare massimo da 20 sì tutte quante da collezionare sono bellissime sono da 20 sì sì o sono da 150 da 20 da 20 allora papà vogliamo salutare i nostri amici certo allora amici se vi è piaciuto il video pollicione in su pollicione in su poi domani facciamo un altro video di Fast & Furious perché le compriamo altre due ottimo domani le compriamo insieme perché io non vado a scuola ok allora ragazzi iscrivetevi al canale così non vi perdete nessun aggiornamento delle avventure di Sergio e papà e papà e papà ciao a tutti ciao a tutti ciao ciao ciao